Buonasera dolcissimi dolcissimi, da me, da Maria e da? Chi c'è? Maria! Allora, sono andata a fare la spesa da Cico! Allora, ho preso questo detersivo delle robe, si può fare sia a mano che nella lavatrice, 30 lavaggi a 3,49 euro, sono da 750... No, no, scusate, da 1950, scusate, da 1950. Poi ho preso questo Dimension Shampoo e Balsamo per Maria, 89 centesimi, questo profumo per l'omino che fa... Poi ho preso questo qua, Casa Montorsi, Sapori di Casa, questo formaggio scamorsa fumicata a 99 centesimi, poi ho preso 150 grammi di mortadella, 150 di prosciutto crudo, non manca messo il prezzo, vabbè. Secondo me, 4 euro. Poi, queste vongole, 2,99 euro, due pacchi di uova a 1,20 euro, caduno, poi questo ketchup, tomato ketchup, 1,49 euro, cric croc piccanto, 1,89 euro. E noi ci vediamo al prossimo video. Baci baci, ciao, salutate! Ciao!